oggi vi vorrei mostrare come filmare macro con qualsiasi lente e non parlo di trucco triviale è una forma che garantisce risultati di alta qualità che puoi usare anche nei vostri commercianti quindi, senza più di più, cominciamo! questa è una lente di zoom 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 12-60 mm microforte con una distanza di focus minima di 25 cm non esattamente ciò che bisogna per il film di macro quindi, come puoi riuscire questa lente in una macrolente con questi tubi di estensione? costa meno di euro ma possono dare un risultato eccellente senza perdita di qualità perché non aggiungono alcuni elementi di glassa in fronte del sensore di camera puoi anche trovare alternativi più piaciuti senza contenuti elettronici e con una construzione completa plastica la scelta è tua, possono essere usati individuamente o in combinazione per aumentare il valore di magnifico in ogni caso, mantenete un'altra cosa in mente la lunghezza focale della lente dovrebbe essere migliore che la lunghezza del tubo o tubo usato altrimenti non potresti concentrare ora, montiamo il tubo e fare alcuni testi di legge di focale diversi oh, e aspettate fino alla fine del video perché ho le migliori scelte per l'ultimo ciao 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 prima di guardare la macro b-roll assolutamente di iscrivervi per non perdere il mio prossimo video dove vi mostro come usare questi tubi per creare una scelta di scelta commerciale e ricordate, che la creatività sia con te ciao 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 ciao